Maximiliano Allegri? Ma sei serio? Ma ti ascolti quando parli? Popolo rosso, nero, campione d'Italia e amici di YouTube, benvenuti al Benzinerro Stadium, iscrizione, campagna e aggiornamenti. E raga, non dimenticatevi il pollice in su che è importantissimo per il canale. Comunque, Maximiliano Allegri ha detto che la Juve era dello stesso livello di Milan, Inter e Juventus. Allora, dell'Inter e del Napoli non me ne fotte un cazzo. Però Max, ma sei serio? Ma vogliamo analizzare seriamente le cazzate che dici? A parte che tu hai mostrato il calcio più brutto della Serie A. Quindi, anche se fosse vero quello che dici, la colpa è tua. Con un gioco così merdoso, cioè vedere la Juventus, ti mettevi sul divano, era sopolifero, ti addormentavi tanto, si addormentava anche la gente sugli sparti, tanto non si poteva vedere il tuo calcio. Quindi, anche se fossi, sei tu il problema. Però analizziamo. Importa? Tu sei scendicci. e io ho Magic Mike, un altro pianeta. In difesa c'hai. Allora, Alexandro, Bonuzzi, nonno Chiellini e Danilo. E c'hai l'unico buono ed è l'Ict. Noi invece abbiamo Teo, Tomori, Kalulu, Chier, Calabria. A centrocampo, tu hai un centrocampo da Europa League, zona tranquilla, non di più. Locatelli, inguardabile. Mekin, due giocatori che al Milan farebbero la panchina. Mekin. Ramsey, mamma mia. Avevi Bentancur e Kuluseski, l'unico che si salvava era Kuluseski, l'ha anche venduto. Quindi, mamma mia. Poi fa Artur, che è su chi l'ha visto. C'hai un centrocampo, l'unico buono quadrato. Un centrocampo da zona tranquilla, che fa veramente cacare. Cioè, nessuno di questi giocherebbe titolare nel Milan. Poi, lì davanti sei forte. Lì davanti sei anche più forte di me, anzi, sei sicuramente più forte di me. Perché con Chiesa, Di Bala, Morata, dopo hai preso Aikin, hai preso anche Vlaovic, sei più forte. Ma nell'insieme, tu non sei più forte del Milan. Quindi tu sei arrivato quarto, per misericordia, perché se solo girava un po' meglio l'Atalanta, invece c'è stato malissimo quest'anno, ti fotteva. Tu sei quarto, per misericordia. Ma ti assicuro io che almeno non sei alla pari del Milan. E neanche dell'Inter. Poi te la puoi giocare col ciuccio. Ma per il resto è allegri. Dopo. Adesso si riparte da zero. Parte il calciomercato. È iniziato il calciomercato e il Milan ha perso che sì. Quindi per il momento ci siamo anche indeboliti. Però appena è iniziato il calciomercato. Poi vedremo perché non è entrato Adli e Pobega. Ma sicuro al 100%. Non sono Frank e sì. Raga. Bellissimo. Sta per iniziare il mercato, quindi sono tutto eccitato. Sempre forza Mila. Allegri.